Buonasera, ci troviamo all'interno della Corte Privata del Palazzo Caetani di Fondi che viene gestito dal Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Oggi è il venerdì 9 di ottobre e siamo qui per inaugurare una mostra che come vedete alle mie spalle già ci dice tutto. È una mostra dell'artista Gianni Leone che terrà qui in questo palazzo fino al 25 di ottobre. Questa mostra è organizzata dall'Associazione Prologo Fondi con il padrocinio del Comune di Fondi e con il padrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Intanto vi presento le persone che sono qui presenti, magari inizio qui alla mia sinistra con il consigliere comunale Francesco Ciccone con il consigliere comunale Claudio Spagnardi che è stato delegato dal sindaco Pinamino Maschietto a essere presente a questa inaugurazione e al centro il direttore del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis, il maestro Gianni Leone e il coordinatore e quindi organizzatore della mostra Cristian Conte. Allora io magari do subito la parola visto che il direttore, magari facciamo prima l'artista così ci diamo un'imparinatura. Allora l'artista come vedete ha una tecnica originale. Lavora molto con il chiariscuro, è un artista molto quotato di fondi e ha esposto le sue opere in diverse occasioni anche in tutta Italia. Allora Gianni Leone se tu magari vuoi venire un po' più avanti qui ci puoi, anche una bella voce alta, cristallina e argentina ecco parlarci di questa tua esperienza, di questa tua arte. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti innanzitutto. Vorrei più che altro dare un po' una chiave di lettura di questa mostra. È una mostra un po' insolita, bianco e nero, non c'è colore quindi non vi aspettate questi colori sgargianti, come siete soliti vedere in una mostra. È soltanto in bianco e nero, ma è concettuale nel senso che rappresenta un'atmosfera apocalittica ma non bisogna vederla sostanzialmente così. La chiave apocalittica ci sta a rappresentare un po' quello che è il discorso legato all'inquinamento a tutte quelle tematiche care a noi per quanto riguarda l'ambiente e tutti quei valori che stanno scomparendo in qualche modo. È un po' un monito questa atmosfera ma non bisogna vederla soltanto così, come ho già detto ma la chiave è anche un'altra cioè bisogna vederla anche come rappresentazione del quotidiano, dell'attuale quelle che sono praticamente i valori che ci rappresentano adesso, nel reale. Questa è la chiave di lettura principale ovviamente vi troverete davanti delle atmosfere crude come può essere l'apocalittico ripeto, molto insolito perché di solito siamo portati a pensare la pittura come qualcosa di gioioso, di bello da vedere soprattutto con questi colori partendo dal vaso di fiori fino ad arrivare a questi soggetti soliti questa è una mostra un po' insolita quindi li troverete davanti è un'atmosfera un po' cupa un po' grottesca un po' dura da digerire però ben fatta e vi piacerà molto Infatti io volevo collegarmi a questo della cupezza che può apparirci a prima vista ma anche riferimento a quello che abbiamo vissuto nel lockdown in Italia a causa del coronavirus che ci ha un po' rattristati tutti quanti e speriamo di non ritornare in quella situazione Certo, infatti troverete anche un'opera dedicata al Covid addirittura fatta apposta nel periodo e quindi molto rappresentativa dura ovviamente e niente, cosa dire? Speriamo innanzitutto che questo sia anche un monito affinché si cambia un po' l'abitudine un po' malsana che ci ha portato anche a questo perché credo che sia il risultato di inquinamento soprattutto lasciando perdere tutte quelle ipotesi che possiamo pensare e che ci hanno detto ma io credo che sia legato all'inquinamento e l'inquinamento è uno di quei concetti di quelle idee che troverete in questa mostra Grazie Intanto allora due parole le facciamo dire anche a Cristian Conte anche se non vuol parlare perché lui è un uomo d'azione e è già laureato in storia dell'arte moderna e cura questa mostra devo dire che la vedremo anche ben allestita Anche io ringrazio tutti quanti per essere qui abbiamo voluto partire proprio da Fondi per un semplice motivo sia io che Gianni siamo fondani e dopo un lungo periodo di riflessione Gianni è stato fermo per alcuni anni è approdato ad un nuovo stile questo nuovo stile come vedete appunto è bianco e nero che tende a portare direttamente lo spettatore all'interno dei suoi quadri delle sue riflessioni sono molto metafisiche vanno al di là di quella che è la realtà ma in realtà ci può portare ad un futuro che non è così lontano è molto prossimo alcune figure sono isolate non per astrarle dalla realtà ma proprio per farci capire che è ciò che potrebbe arrivare quando verrete su noi saremo a disposizione per qualsiasi chiarimento se avete qualche dubbio e nulla ringrazio comunque la figura di Gatano Orticelli per la prologo perché è stato disponibile subito fin dall'inizio a chiedere al monte Parcausoni il lago di Fondi la sala per l'esposizione quindi per qualsiasi cosa noi siamo qui e vi ringrazio ancora grazie allora approfittiamo della presenza del consigliere sì magari perché così viene più vicino e ci ascolta meglio la voce perché con queste mascherine purtroppo siamo costretti un po' a convivere anche in questa maniera e non usiamo il microfono perché per via anche del covid se no ogni volta dovremmo sterilizzarlo quindi siamo andando avanti così e come si dice la navighiamo a vista però va bene anche questo l'importante è che c'è questa la speranza allora Francesco Ciccone consigliere comunale tu fai parte anche dell'associazionismo insomma anche di interessi di arte della natura dell'ambiente in modo particolare ecco come vedi questa questa mostra a fondi questa presenza sarò molto breve intanto voglio ringraziare da cittadino e non come consigliere comunale Cristian Conte per l'organizzazione ma anche e soprattutto Gianni Leone per aver scelto proprio la loro città per iniziare questo percorso io mi auguro li porti il più lontano possibile in tutti i sensi il compito poi degli enti in questo caso delle istituzioni come Parco Montiausoni Lago di Fondi Comune di Fondi Regione Lazio e anche nella tua resta di responsabile di lavoro loco è proprio quello di sostenere questo tipo di iniziative e promuovere l'arte il talento la creatività di tanti ragazzi che sono spesso molto apprezzati all'esterno delle mura cittadine e sottovalutati tra le mura di casa ed è un paradosso che noi dobbiamo assolutamente ribaltare vi ripeto non come tanto consiglieri assessori o chi che sia ma proprio come cittadini quindi faccio il mio personale ringraziamento a questi ragazzi grazie 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 Francesco Ciccone rappresentanza del sindaco di Fondi Benamino Maschietto che purtroppo è impegnato nella sua professione per intenderci e comunque c'è in sua rappresentanza il consigliere comunale Claudio Spagnardi allora io colgo l'occasione per ringraziare la prologo soprattutto l'artista Gianni Leone e il curatore della mostra Cristian Conte di come ha spiegato un bene Cristian di iniziare questo percorso di mostre proprio da fonti di aver scelto fonti come paese a cui sono legati per nascita ma sicuramente questa che offre il parco di Montiosoni è anche una splendida cornice quella di Palazzo Chetani che può essere sicuramente un ottimo in bocca al lupo per il loro percorso bene grazie Claudio Spagnardi allora noi chiudiamo con questa cerimonia così diciamo non improvvisata ma purtroppo dobbiamo adattare alle nuove normative soprattutto la nuova direttiva che è venuta dalla regione Lazio proprio ieri e per 15 giorni dobbiamo chiaramente essere molto molto attenti a questa a questa questo incentivarsi della della pandemia ora direttore Lucio Dottor Lucio De Filippis direttore del parco Montiosoni Lago di Fondi questa è una mostra che adesso ci inserisce proprio devo dire ad hoc in questo periodo in cui stiamo vivendo buonasera grazie a Gaetano grazie alla Prologo di Fondi e grazie a tutti voi per essere intervenuti qui questa sera alla prima di questa mostra l'ente parco dei Montiosoni Lago di Fondi è stato ben felice di accogliere fin da subito questa iniziativa un'iniziativa dove si parla di arte dove si parla di futuro dove si parla di ambiente quindi diciamo non mancano assolutamente i punti di contatto con queste tematiche tematiche che diciamo vediamo assolutamente diciamo di attualità qui l'artista cerca con i suoi lavori di proiettarci nel futuro di farci immedesimare in quella che sarà quella che potrebbe essere diciamo quello che potrebbe essere lo scenario uno scenario assolutamente legato alle nostre abitudini di vita ai nostri stili di vita e quindi un parco naturale ecco che diciamo oltre a favorire l'arte in generale oltre a valorizzare il suo ricchissimo patrimonio immobiliare che qui vediamo rappresentato nel palazzo Gaetane oltre a tutto ciò quindi a governare al meglio queste strutture valorizzandola anche con iniziative artistiche il parco diciamo vuole sostenere questa iniziativa per contribuire a diciamo a modificare a cambiare a dare diciamo delle opportunità a tutti noi che trovandoci davanti a un'opera d'arte possiamo ragionare su quello che è la nostra la nostra vita i nostri stili di vita e soprattutto la necessità non direi la possibilità ma la necessità di rivederli di riconsiderarli tutti noi abbiamo capito la drammaticità di certe abitudini e le conseguenze diciamo deleterie che queste abitudini poi imbattono imbattono sul pianeta l'artista qui appunto con questa sua tecnica quella di ridurre al massimo anzi eliminare i colori e affidarsi solamente al bianco e nero vuole renderci proprio diciamo questo messaggio essenziale e in tutto ciò si avverte anche un'urgenza appunto di rivedere certe abitudini e quindi diciamo ecco io sono come tutti voi curiosissimo di vedere dal vivo queste opere e vi invito appunto a salire a venire nei giorni di apertura dell'iniziativa e apprezzare questo lavoro grazie a tutti e buona mostra a tutti noi la mostra si può vedere sì alla spicciolata ovviamente 4 alla volta nel fino al 25 di ottobre la mattina dalle ore 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20.30 quindi potete venire quando volete qui al palazzo Caetani di fondi che si trova praticamente vicino al castello e in questi orari quindi grazie a tutti voi magari in un altro servizio vi facciamo vedere anche le opere esposte grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti